crolla il mercato delle auto in tutta italia la vendita delle quattro ruote vuoi per la crisi vuoi per altri fattori un po alla faccia della ripresa quando si parla di automobili però si parla anche del mondo delle riparazioni delle automobili elettro auto fadda nei fatti uno degli elettro auti storici di cagliari 26 anni di attività almeno nel suo caso qual è il termometro degli affari tra pezzi di ricambio interventi va su o va giù diciamo diciamo che adesso si va molto solo esatto la gente cerca il risparmio più che altro se andiamo sul nuovo chiaramente devono pagare iva ed è giusto che sia così però per molti risparmio e poi in questi mesi settembre ottobre le aperte le scuole difficilissimo andare avanti quando qualcuno le porta un'automobile le chiede un preventivo magari per la riparazione quali sono i danni più frequenti rotture di pezzi su impianti elettrici non posso fare preventivo perché non non so cioè non so quantificare il danno se non se non apro l'impianto e vado avanti se poi devo fare una riparazione su sulla meccanica chiamo il deposito mi faccio dire il costo del pezzo la manodopera cerca un po di ammortizzare comunque i costi ecco lei apre fa i controlli diritto e poi dice guardi c'è da spendere tot per questa riparazione le capita a no è troppo come risposta ripasserò sì sì per quello che noi cerchiamo sempre di andarli incontro e cercare di togliere sempre qualcosa o andarli incontro si comprano loro il materiale uno sfascio a carrozze noi pensiamo alla giusto alla mano doppia l'incontro quindi si può dire che c'è un business dell'usato insomma lo fascio a carrozze si va al risparmio tantissimo molti clienti mi portano il materiale loro vanno direttamente loro a volte lavoriamo anche due volte perché il materiale ci portano dei fattosi fermo nei casi nei quali lei fa il preventivo anno passerò oppure no non se ne parla è troppo e lì ovviamente deve guadagnare non può fare di certo sconti esagerati ci sono persone che se ne vanno comunque può succedere raro però che non li facciamo scappare cerchiamo di tra una cosa e l'altra diciamo a farvi il fatto di riposarsi a uno sfascio a carrozze è un sintomo della crisi dal suo punto di vista se no e soprattutto il fatto di fare una carrozze comporta anche il fatto che spesso i pezzi non sono di qualità quindi c'è un rischio anche certo certo è usato perciò provenienza non sappiamo del pezzo e a quel punto fa il suo lavoro perché è pagato per farlo pagheranno due volte io devo smontarlo e lo devo rimontare c'è anche un problema può esistere legato alla sicurezza stradale certo se infatti il pezzo da noi con l'usato non è non è garantito sul montaggio non lo montiamo non mi assumo nessuna responsabilità assolutamente e quindi può capitare che l'automobilista vada via con ancora il pezzo danneggiato che non ha cambiato perché non e camminano così ne vedo tanti dopo anche un tornano per una lampadina dopo un mese due mesi io mi accorgo ancora del rumore che ha e non ha fatto quel lavoro lì in ultimissima battuta nell'ultimo anno calo degli affari sì o no diciamo la crisi c'è noi stiamo lavorando non ci lamentiamo però ripeto il cliente vuole sempre risparmiare difficile trovare la persona che non vaticiglio paga se ne va difficile c'è ancora la teoria dell'auto nuova da cambiare ogni due tre anni no no totalmente vanno i modelli vecchi anche di quando si dipende 10 anni 12 anni ci chiedono a noi quale macchina potrebbe ma basta basta vedere anche le punto del 2005 2007 vanno quelle messe bene vanno